Sono quasi quattro anni da potere, il mio ultimo disco, torno con Dove Volano le Aquile, che è un disco molto ambizioso e lo dice il titolo stesso, insomma, Dove Volano le Aquile è più in alto di tutti ed è poi quello, diciamo, l'obiettivo finale del disco è quello di fare un po' una differenza e di cercare di impormi nel panorama ancora di più di quello che magari abbia fatto finora. Nel disco ci sono tanti featuring, gli artisti forse più forti in Italia al momento, abbiamo Elisa, abbiamo Marra, abbiamo Gwe, Noiz Narcos, Joe Elier, Coco, Madame, c'è Etta, che è un emergente che produciamo noi con BFM, che è la mia label, c'è Ernia, ho sempre fatto un po' la direzione artistica dei miei dischi, non sono uno che scrive il testo e basta, insomma, quindi adesso mi occuperò anche dei visual, anche il concetto della copertina è stata un'idea mia che poi Giorgio Di Salvo l'ha resa poi cover, ha realizzato quest'idea che avevo io, quindi sì, diciamo che comunque curo un po' tutti i lati della lavorazione ad un album. Non avevo voglia di pubblicare la tracklist nella maniera canonica, volevo lanciare dei contenuti, volevo parlare di me, volevo parlare del disco, quindi ho scritto questo monologo molto lungo che è stato poi suddiviso in tre parti e ogni parte conteneva, nascosta tra le parole del monologo, conteneva i cinque brani della tracklist. Io ho scelto Marco D'Amore, Alessandro Siani e Breno Rodriguez perché sono entrambi vicini ma lontani al mio mondo. Il messaggio che voglio lanciare ai ragazzi, soprattutto in un momento dove usciamo da una pandemia, molte persone sono messe a confronto con se stessi perché abbiamo avuto tanto tempo da passare con noi stessi, è proprio quello di trovare la forza da qualche parte e anche quando sembra che non ci sia, di lavorarci su e quindi trovarla leggendo e analizzandosi e cercando di meditare su quelle che sono le nostre forze che abbiamo tutti, a volte l'energia di cui abbiamo bisogno ce le abbiamo dentro e devono uscire fuori. Dal primo luglio possiamo incontrarci e vederci in cinque appuntamenti estivi nei festival più belli d'Italia e poi in inverno ripartiremo con un tour nei palazzetti. Ciao a tutti e ascoltate dove volano le aquile.